Oggi ripariamo la rottura che c'è in una cerniera, come potete vedere questa, guardate, che si apre in questo modo. Ok, dando alcuni punti di cucita riusciamo a sistemarla in modo tale che sia ancora riutilizzabile. Grazie a tutti. Dietro ogni spirale, dentro ogni spirale, bisogna fargli dare il punto. Vedete, adesso è a posto. Questa è la parte che abbiamo cucito e adesso è sufficiente appunto trovare il cursore. E voilà, ecco qua che chiude. Si vede leggermente, è sufficiente magari tagliare un pochettino con le forbici, questi fili. Ecco fatto. E funziona perfettamente. Ok, buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.